Ieri pomeriggio gli agenti della squadra mobile di Taranto hanno tratto in arresto il 29enne tarantino Giuseppe Gioia, sorvegliato speciale per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo hanno intercettato lungo la statale 106 in direzione Taranto, mentre viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Ducati 999. Dopo un brevissimo inseguimento, il centauro è stato bloccato e perquisito. All'interno di uno zaino c'erano due involucri completamente rivestiti da nastro adesivo per i pacchi contenenti complessivamente 4,2 kg di eroina sottoposta a sequestro.